Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fibli, dove per un incidente adesso risolto ci sono 6 km di coda tra San Mignato e Montopoli-Valdarno in direzione Livorno. Si è verificato un incidente tra Cascina e Navacchio in direzione Pisa. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in A1 per lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, stanotte sarà chiuso il tratto tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Aglio in direzione Roma. Contestalmente chiusi gli svincoli di Badia e Firenzuala in entrata verso Roma e in uscita provenendo da Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!